Con la sua potenza, il suo calore e la sua energia, il fuoco è uno dei quattro elementi naturali che sono alla base della vita. Fin dall'antichità il fuoco significa casa e unione familiare, ma oggi la tecnologia e la modernizzazione hanno man mano sostituito l'atmosfera del focolare domestico con sistemi di riscaldamento a gas o a elettricità, come stufette e termosifoni, che scaldano sì, ma quanto ci fanno spendere? Durante l'inverno ogni anno paghiamo astronomiche bollette e pur lamentandoci continuiamo a pagare senza obiettare, perché di scaldarci non possiamo farne a meno. Pensiamo quindi che l'ideale sia avere un bel cammino che ci scaldi e ci doni un'atmosfera di pace e rilassamento. Ma quanti di noi possono permettersi la costruzione di una canna fumaria, specie se viviamo in un appartamento? Termosifoni e stufette dalle bollette costosissime o cammini a canna fumaria? Fino a poco tempo fa queste sembravano le uniche condizioni per scaldare le nostre case, ma da oggi esiste un'alternativa per avere calore, atmosfera, risparmio di energia e di denaro. La soluzione sono i bio caminetti chaleur, veri e propri camini che non necessitano di canna fumaria, di legna, di elettricità o di gas, che non rilasciano fumi, cenere, pericolose scintille o polveri sottili molto dannose per l'assolute. Non è una magia, ma è il frutto di anni di ricerca di esperti impegnati a cercare energie alternative per migliorare l'ambiente e la qualità della vita, con lo scopo di farci risparmiare energia e denaro. Quanti di voi sognano durante le fredde giornate di farsi coccolare dal calore e dall'atmosfera della fiamma di un camino, magari in compagnia di amici della famiglia, della persona amata o perché no, dopo una pesante e fredda giornata, anche da soli. I bio caminetti chaleur sono nati apposta per rispondere ai desideri di tutti coloro che hanno sempre sognato un camino, ma che non hanno mai avuto la possibilità di averne uno, risparmiando e aiutando l'ambiente. Come? La risposta la troviamo nella natura, attraverso il bioetanolo, ovvero un combustibile non inquinante prodotto tramite un processo naturale di fermentazione e distillazione delle biomasse di origine vegetale, come barbabietole da zucchero, frutta, patate, mais e cereali. Il bioetanolo non deriva dal petrolio, gas o carbone, per questo durante la combustione non disperde nell'aria nessun fumo o sostanza nociva per l'uomo. I bio caminetti chaleur non sono collegati né all'impianto elettrico e neanche all'impianto del gas. La loro fiamma è alimentata dal bioetanolo che permette di riscaldare con rapidità ed efficacia perché il calore presente nell'ambiente non viene aspirato dalla canna fumaria. Avete capito bene, non necessitano di canna fumaria, quindi possiamo installarli ovunque. Sembra impossibile, ma da oggi tutti possiamo avere un cammino in casa, aiutando l'ambiente e risparmiando tanto denaro. Da sempre ho sognato di avere un cammino, ma purtroppo non avendo una canna fumaria non ho mai potuto installarlo. Poi ho visto in televisione i bio caminetti chaleur e allora hanno installato uno in salotto, uno in sala da pranzo ed un altro in bagno. I termosifoni in questi ambienti sono accesi pochissimo, diminuendo notevolmente il costo delle bollette. Devo dire che mi ritengo soddisfatta non solo per il risparmio accumulato, ma anche per l'atmosfera confortevole che gode la mia casa. Che bella idea! Risparmio è praticità, perché i bio camminetti chaleur non sono collegati al tubo di scarico e quindi li possiamo collocare ovunque. La linea bio cammini chaleur è composta da diversi modelli, progettati e realizzati da designer sempre attenti alle nuove tendenze di arredamento. Come il modello Carré, ideato per gli amanti del design, ispirato all'estetica e alla praticità. La cornice in acciaio dona quel tocco irresistibile di classe e di modernità, valorizzando ogni tipo di arredamento. Carré è disponibile anche in versione più piccola. Petit Carré, per spazi più piccoli ma bisognosi comunque di calore. Dalla forma piatta e poco voluminosa, il modello Pla aderisce alla parete come se fosse un quadro. La calorosa fiamma è rinchiusa in una cornice di design innovativo, sicuramente adatto a tutti coloro che fanno della semplicità unita all'eleganza una decisione di stile. Il modello Revé è la soluzione ideale per occupare gli angoli inutilizzati della stanza, non è fissato al muro e ciò ci consente di spostarlo in posti sempre diversi, in cucina, in sala, a secondo delle proprie esigenze. Ma l'ampia gamma dei nostri cammini non finisce qui. Chiamate ora per scoprire direttamente a casa vostra il modello più adatto al vostro gusto e alle vostre esigenze. Tutto questo con la possibilità di personalizzarlo con il colore che desiderate. I bio caminetti chaleur sono creati manualmente uno ad uno e le innovative tecniche di lavorazione garantiscono un uso prolungato nel tempo, il tutto per dare un tocco moderno e sofisticato ai vostri ambienti. Ho scelto di installare un bio camminetto chaleur nella sala dei massaggi del mio centro estetico. Piace molto ai clienti e piace molto anche a me, perché l'atmosfera e il calore sono gli ingredienti più importanti per un rilassamento totale. Chi l'avrebbe mai detto? Anche noi abbiamo un caminetto in casa. Lo abbiamo acquistato perché avendo il riscaldamento centralizzato non riuscivamo a regolare la temperatura. Ora, avendo il nostro caminetto chaleur, possiamo regolare la temperatura quando vogliamo noi. E allora, se non avete una canna fumaria, ma desiderate comunque avere un caminetto che scaldi e che crei una piacevole atmosfera sotto il segno dell'ecologia e del risparmio, i bio caminetti chaleur sono la risposta che cercate. A differenza dei camini a canna fumaria, i bio caminetti chaleur non hanno bisogno di pulizia da cenere e da fuligine, ma si spolverano come dei comuni mobili. Per installare il vostro bio caminetto occorrono al massimo 10 minuti e la sua facilità d'utilizzo non comporta alcuna manutenzione. Le diverse dimensioni e l'assenza di canna fumaria consentono di installare la vasta gamma dei modelli bio caminetti chaleur in tutti gli ambienti. Potrete quindi godere del calore della loro fiamma, non solo a casa vostra, ma anche negli uffici, nei centri di bellezza, nei ristoranti, insomma ovunque. E se un giorno deciderete di traslocare, smontare il caminetto è una questione di pochi minuti, perché non ha collegamenti fissi né per l'alimentazione e nemmeno per lo scarico. Non avevo mai pensato di comprare un caminetto per il mio ufficio, poi ho visto il mio caminetto e mi sono deciso ad acquistarlo. È un oggetto veramente magnifico. I miei clienti quando vengono in ufficio da me lo guardano in maniera incuriosita e divertita e tutti mi chiedono dove ho potuto comperarlo. Ho fatto un ottimo affare, vi consiglio di comprare. Ho scelto di installare nel mio ristorante i bio camionetti chaleur, prodotto fantastico, ha dato quel tocco di classe in più, ma soprattutto ha creato quella giusta atmosfera scenografica che mancava. Tutti i miei amici clienti sono contentissimi, stanno benissimo, quindi ve li consiglio, è stata un'ottima scelta. Ma le bio novità non sono finite. La linea chaleur comprende anche stufe che non si alimentano a gas, ma a pellet o mais, ovvero prodotti naturali che non inquinano e che fanno risparmiare moltissimo denaro. Belle ed efficaci le stufe ecologiche chaleur, hanno un ricercato design, il colore è personalizzabile e sono adattabili ovunque, ma soprattutto non sporcano e rispettano la natura, scaldando i vostri ambienti a secondo dei vostri bisogni. Questo è il secondo inverno che uso una stufa chaleur. Oltre ad essere bella, vi assicuro scalda tantissimo, è sicura e vantaggiosa e poi sono molto orgogliosa di poter contribuire anch'io nel mio piccolo a non inquinare l'ambiente. Meglio di così? I vantaggi delle stufe e dei camini chaleur sono tantissimi. Perché dunque rinunciare all'atmosfera e al calore risparmiando, diminuendo lo sperpero di energia e non inquinando l'ambiente? Non esitate quindi e chiamate ora per scoprire la bellezza e l'utilità delle stufe e dei bio camini chaleur. Ma attenzione, solo per oggi, per le prime 30 telefonate, con l'acquisto di uno dei modelli presentati potrete avere in abbinamento uno dei prodotti più ambiti e desiderati dalle famiglie. L'erogatore d'acqua potabile Water Smile è creato per mantenere le proprietà naturali dell'acqua, eliminando tutte le impurità e donandovi un'acqua pura e sicura. Chaleur e Water Smile, oggi insieme per un'offerta straordinaria che vi farà risparmiare tanto e tanto denaro. Perché con Chaleur farete bella la vostra casa alleggerendo le pesanti bollette del gas e con Water Smile eliminerete completamente il costo mensile per l'acquisto di acqua in bottiglia. Cosa aspettate ancora? Comprate Chaleur e noi vi portiamo a casa l'acqua gratis per sempre! Termosifoni e stufette dalle bollette costosissime o camini a canna fumaria. Fino a poco tempo fa queste sembravano le uniche condizioni per scaldare le nostre case, ma da oggi esiste un'alternativa per avere calore, atmosfera, risparmio di energia e di denaro. La soluzione sono i bio caminetti Chaleur, veri e propri camini che non necessitano di canna fumaria, di legna, di elettricità o di gas, che non rilasciano fumi, cenere, pericolose scintille o polveri sottili molto dannose per la salute. Come? La risposta la troviamo nella natura, attraverso il bioetanolo, ovvero un combustibile non inquinante prodotto tramite un processo naturale di fermentazione e distillazione delle biomasse di origine vegetale, come barbabietole da zucchero, frutta, patate, mais e cereali. Il bioetanolo non deriva dal petrolio, gas o carbone, per questo durante la combustione non disperde nell'aria nessun fumo o sostanza nociva per l'uomo. I bio caminetti Chaleur sono nati apposta per rispondere ai desideri di tutti coloro che hanno sempre sognato un camino, ma che non hanno mai avuto la possibilità di averne uno. Sembra impossibile, ma da oggi tutti possiamo avere un camino in casa, aiutando l'ambiente e risparmiando tanto denaro. La linea bio camini Chaleur è composta da diversi modelli, come il modello Carré, ideato per gli amanti del design, ispirato all'estetica e alla praticità. Carré è disponibile anche in versione più piccola, Petit Carré, per spazi più piccoli ma bisognosi comunque di calore. Dalla forma piatta e poco voluminosa, il modello Pla aderisce alla parete come se fosse un quadro. Il modello Revé è la soluzione ideale per occupare gli angoli inutilizzati della stanza. Chiamate ora per scoprire direttamente a casa vostra il modello più adatto al vostro gusto e alle vostre esigenze. Tutto questo con la possibilità di personalizzarlo con il colore che desiderate. E allora, se non avete una canna fumaria, ma desiderate comunque avere un caminetto che scaldi e che crei una piacevole atmosfera sotto il segno dell'ecologia e del risparmio, i biocaminetti Chaleur sono la risposta che cercate. Le diverse dimensioni e l'assenza di canna fumaria consentono di installare la vasta gamma dei modelli biocaminetti Chaleur in tutti gli ambienti. Per installare il vostro biocaminetto occorrono al massimo 10 minuti e la sua facilità d'utilizzo non comporta alcuna manutenzione. La linea Chaleur comprende anche stufe che non si alimentano a gas, ma a pellet o mais, ovvero prodotti naturali che non inquinano e che fanno risparmiare moltissimo denaro. Ho fatto un ottimo affare, vi consiglio di compiarlo. Chi l'avrebbe mai detto? Anche noi abbiamo un caminetto in casa. Devo dire che mi ritengo soddisfatta non solo per il risparmio accumulato, ma anche per l'atmosfera confortevole che gode la mia casa. Che bella idea! Acquistare una stufa Chaleur è stato un affare, la consiglio anche a voi. Ma attenzione, solo per oggi, per le prime 30 telefonate, con l'acquisto di uno dei modelli presentati potrete avere in abbinamento uno dei prodotti più ambiti e desiderati dalle famiglie, l'erogatore d'acqua potabile Water Smile. È creato per mantenere le proprietà naturali dell'acqua, eliminando tutte le impurità e donandovi un'acqua pura e sicura. Chaleur e Water Smile, oggi insieme per un'offerta straordinaria che vi farà risparmiare tanto e tanto denaro. Perché con Chaleur farete bella la vostra casa, alleggerete tanti bollette del gas e con Water Smile eliminerete completamente il costo mensile per l'acquisto di acqua in bottiglia. Cosa aspettate ancora? Comprate Chaleur e noi vi portiamo a casa l'acqua gratis per sempre. Stufe e camminetti Chaleur, il piacere del calore a casa mia. Grazie per averci seguito e arrivederci.